Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo ancora di novità nel mondo della simulazione di guida Prima cosa, da maggio 2023 iRacing ha annunciato la partnership ufficiale con la FIA ragazzi FIA Qua vanno avanti ragazzi E prima collaborazione ufficiale lanciano il Regional Championship Formula 4 Proprio per dare un approccio reale, realistico a quelle che sono le competizioni della vita reale su iRacing Quindi quarta stagione dell'anno si parte con la F4 ufficiale FIA Questa era l'annuncio per quanto riguarda iRacing Dopodiché volevo segnalarvi che questo weekend avete la possibilità di provare tutti i contenuti di RaceRoom Lo fanno quasi sempre e ogni volta che lo fanno siamo qui per annunciarvelo Quindi se volete provare le novità, le ultime Porsche eccetera eccetera Allora è il momento di lanciarsi Ma dopo queste due velocissime news ragazzi passiamo a quella molto più importante E cioè le Mans Ultimate Quella, la notizia più succulente eccola qua Dove ci sono le anteprime per quanto riguarda l'interfaccia udente E soprattutto i dettagli sullo sviluppo del nuovo titolo che sta speriamo per uscire a fine 2023 Ecco le quali nuove immagini e l'interfaccia utente che sono state anticipate proprio nell'intervista fatta a Dom Duan Allora chi è Dom Duan? È il capo dello studio 397 che ha condiviso appunto dei dettagli sullo sviluppo del gioco Ha parlato del suo ruolo nello studio e delle sfide nello sviluppo delle nuove funzionalità in arrivo Ha anche sottolineato l'importanza della fisica nel gioco e ha rivelato collaborazioni con partner Che per ricreare auto storiche e migliorare la simulazione Ha menzionato il lavoro sul modello del pneumatico La tecnologia di scansione laser per i circuiti e l'attenzione ai dettagli nella creazione delle auto Ha dato anche caratteristiche del gioco Che offrirà modalità per giocatore singolo Gare veloci, modalità campionato e la possibilità di gareggiare in diverse categorie di auto L'obiettivo è migliorare l'accessibilità e l'esperienza dell'utente Finalmente, offrendo supporto sia ai giocatori esperti che ai principianti Quindi deve essere un gioco for all per tutti Per quanto riguarda il rilascio e le piattaforme Le manze ultime sarà inizialmente disponibile su pc Inizialmente disponibile su pc Anche se il focus principale è sempre il personal computer E la possibilità di una versione per console potrebbe essere considerata in futuro A seconda delle prestazioni del gioco Quindi ragazzi, ancora ottime notizie Io direi di ridare un'occhiata a quelle che sono le immagini di queste nuove interfacce utente Che mi sembrano davvero molto fighe, molto complesse, molto raffinate Rispetto a quello che siamo abituati con Studio 397 Che ha ripreso in mano R-Factor 2 avendo un sacco di lavoro da fare E mi sembra che le prospettive grafiche siano davvero ottime Mi piace tantissimo anche la presentazione delle verei auto Che assomiglia un po' a quello che era Factor 2 nella nuova UI Che era stato presentato negli anni scorsi Però devo dire che qui anche sulla gestione del setup Mi pare davvero molto figa Quindi aspettiamo ancora novità Vi lascio il link per andare a leggere tutta l'intervista Se sapete parlare inglese Se no ve la fate tradurre Come al solito se queste notizie vi sono piaciute Lasciate un pollice in su Non esitate ad iscrivervi al canale Commentate e noi ci vediamo prestissimo Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!